Musica Erano stati sorpresi lungo l'autostrada del sole lo scorso fine settimana con oltre mezzo chilo di gioielli rubati, adesso la polstrada di Arezzo ha iniziato a restituire parte del loro sequestrato a due albanesi. In questi giorni infatti molte persone che avevano da poco subito un furto nel vedere sulla stampa le immagini della refurtiva recuperata, hanno contattato i poliziotti per avere informazioni e proprio ieri una coppia di Montevarchi si è recata alla sottosezione di battifolle per riprendere orecchine e collane trafugate una settimana fa. Inoltre lo scorso martedì è cascato nella rete della polizia stradale anche un 61enne alla guida di un appunto, l'uomo di Firenze ma residente a Monte Catini Terme è stato fermato nei pressi del casello di Arezzo sempre da una pattuglia di battifolle. A bordo aveva alcuni rotoli di soffa taroccata griffata Hermès uguale all'originale con cui aveva confezionato vali foulard da usare come modello per la produzione di false inserie. Ai poliziotti ha farfugliato alcune scuse dicendo di non ricordare i nomi delle persone da cui aveva ricevuto gratis quella merce. Luigi sorpreso in passato a smerciare capi contraffatti è stato denunciato per ricettazione falso dalla stradale che gli ha sequestrato la merce e la punto.